Nuovo appuntamento con Spazio Notizia, ben ritrovati. La cronaca in primo piano partendo da Catania, spaccio di stupefacenti con i carabinieri che hanno beccato e tratto in arresto un giovane pusher, il servizio. I carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Piazza Dante hanno tratto in arresto un giovane ventenne catanese pregiudicato per il reato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Il quartier generale per il rifornimento e lo smercio della droga era un appartamento in località Cerza, dove un via vai di giovani che entravano e uscivano in modo alquanto sospetto dal portone di accesso del condominio non è passato inosservato ai carabinieri. I militari dunque, dopo essersi appostati in più occasioni in una via limitrofa in modalità discreta, compreso lo scenario operativo in cui si sviluppava l'attività illecita, hanno pianificato le modalità di irruzione intervenendo non prima di aver cinturato la zona mediante senza il supporto di altre pattuglie per bloccare eventuali vie di fuga. A quel punto, mentre una squadra si è avvicinata allo stabile, il pusher è uscito dalla porta di casa per una consegna e accortosi della presenza dei carabinieri ha tentato la fuga, ma dopo qualche metro è stato subito fermato. La perquisizione personale ha permesso ai militari di scoprire che all'interno del giaccone lo spacciatore aveva nascosto 42 dosi di marijuana. Ovviamente anche l'appartamento dal quale il giovane era uscito è stato perquisito e nella sua camera da letto gli uomini dell'arma hanno trovato un'ulteriore dose di 6 grammi di marijuana, un bilancino di precisione perfettamente funzionante, una macchina per il sottovuoto, materiale per il confezionamento e 825 euro suddivisi in banconote di vario taglio. La droga è stata sequestrata mentre il pusher è stato tratto in arresto e messo a disposizione dell'autorità giudiziaria etnea che ha convalidato il provvedimento. Altri tre giovani sono stati arrestati dai carabinieri, in questo caso però a Misilmeri, nel Palermitano. Vediamo perché. I carabinieri della compagnia di Misilmeri hanno intensificato le attività di prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti in risposta alle segnalazioni di alcuni residenti che indicavano il consumo di droga al dettaglio di alcuni giovani in prossimità della piazza principale del paese, dove soprattutto nel fine settimana si concentra la movida cittadina per la presenza di alcuni locali. Solo nell'ultimo periodo, infatti, le attività di controllo hanno consentito di sequestrare circa 100 grammi tra cocaina, hashish e marijuana, di denunciare tre persone all'autorità giudiziaria per il reato di detenzione di droga ai fini dispaccio e di segnalare all'autorità prefettizia nove assuntori. I militari hanno tratto in arresto due giovani Misilmeresi, un incensurato di 27 anni e uno di 32 già noto alle forze dell'ordine, ritenuti responsabili rispettivamente della detenzione ai fini dispaccio e della cessione di sostanze stupefacenti. Il primo è stato sorpreso dagli uomini dell'arma in possesso di tre dosi di hashish pronte per la vendita e denaro contante, ritenuto frutto di precedenti cessioni in un vicolo adiacente a piazza Comitato 1860. I controlli sono stati estesi anche all'abitazione del ragazzo, dove i carabinieri hanno sequestrato un bilancino di precisione e altro materiale utilizzato per il confezionamento della droga. Il secondo invece è stato sorpreso nell'atto di cedere quattro lamelle di hashish a un acquirente in cambio di denaro contante, nonostante fosse stato avvisato della presenza dei militari da un 22enne di Misilmeri già noto alle forze dell'ordine. Anche per quest'ultimo sono scattate le manette. Il soggetto infatti ha tentato di sottrarsi al controllo reagendo contro i carabinieri con minacce e opponendo resistenza per poi essere fermato e accompagnato in caserma. I tre giovani, su disposizione del pubblico ministero, sono stati sottoposti agli arresti domiciliari in attesa dell'udienza di convalida. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Termini Merese ha poi convalidato gli arresti. Controlli dei carabinieri anche a Vittoria e Comiso. Siamo nel Ragusano. I militari hanno eseguito un ordine per la carcerazione e rinvenuto due pistole a salve modificate però per esplodere veri e propri colpi d'arma da fuoco. Prosegue l'attività di contrasto ai reati contro il patrimonio e in materia di armi da parte dei carabinieri del Comando Provinciale di Ragusa. In particolare i militari della Compagnia di Vittoria hanno realizzato servizi di controllo straordinario del territorio a largo raggio per il contrasto ai reati in genere. L'attività ha permesso di eseguire un ordine per la carcerazione emesso nei confronti di un vittoriese e di rinvenire due pistole modificate che avrebbero potuto sparare munizioni letali. I controlli hanno riguardato i comuni di Vittoria e Comiso con il supporto del personale dello squadrone riportato Cacciatori di Sicilia. A Vittoria i carabinieri hanno rintracciato un soggetto destinatario di un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Corte d'Appello di Catania in quanto riconosciuto responsabile di reati contro il patrimonio e la persona commessi nel comune Ipparino nel 2021. L'uomo è stato tradotto presso la casa circondariale di Ragusa dove dovrà espiare la pena detentiva. A Comiso invece, durante un controllo predisposto in un edificio di edilizia popolare, gli uomini dell'arma hanno rinvenuto, occultate all'interno del locale Caldaia a uso condominiale, due pistole a salve prive del tappo rosso e modificate in modo tale da renderle idonee ad esplodere colpi d'arma da fuoco. Le pistole sono state sottoposte a sequestro in attesa di procedere alle successive valutazioni di tipo tecnico-balistico che permetteranno di evidenziare se le stesse siano state già usate per fini illeciti. Cambiamo decisamente argomento, sempre più persone soffrono di disturbi dell'alimentazione. In Sicilia addirittura i casi rispetto a qualche anno fa sono in aumento del 30%. Vediamo il servizio. Da un recente sondaggio effettuato sulla popolazione siciliana è emerso che su un campione di 1470 giovani più di un adolescente su cinque, in base alla risposta fornita in occasione del sondaggio sul tema della nutrizione e dei disturbi alimentari, manifesta un primo campanello d'allarme. Si tratta di casi per i quali un intervento preventivo permetterebbe di scongiurare un'evoluzione patologica del problema ed evitare di arrivare per esempio ai casi estremi quali anoressia o bulimia. Il dato statistico è emerso dal questionario sottoposto in numerose scuole e secondarie di secondo grado tra Palermo e provincia, nell'ambito di una ricerca condotta grazie a un lavoro sinergico tra l'Ordine degli Psicologi della Regione Siciliana, il Dipartimento di Scienze Psicologiche e Pedagogiche dell'Esercizio Fisico e della Formazione dell'Università degli Studi di Palermo e l'Istituto per la Ricerca e l'Innovazione Biomedica del Consiglio Nazionale delle Ricerche. I risultati sono stati presentati all'ARS durante un convegno organizzato dall'OPS in occasione della giornata del Fiocco Lilla istituita nel 2012 e dedicata a queste tematiche. Un soggetto su 5 può essere considerato potenzialmente a rischio, ha spiegato Salvatore Gullo, professore di Psicologia Clinica dell'Università di Palermo, che ha condotto la ricerca insieme alla dottoressa Silvia Ruggeri del CNR. Il 10% dei partecipanti, aggiunto, ha ottenuto punteggi tipici dei soggetti che hanno dei disturbi alimentari. I risultati sono andati oltre le aspettative ed è la ragione per cui consideriamo allarmanti questi numeri. Ecco perché l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha utilizzato l'espressione epidemia nascosta. Nella strutturazione della ricerca sono stati considerati anche numerosi fattori, fra i quali l'utilizzo dei social network, il bullismo e altri più tecnici come l'indice di massa corporea. Circa il 40% dei giovani intervistati, ha dichiarato il professore Gullo, aveva un indice di massa corporea al di sotto o al di sopra della soglia del range normopeso. Di questi, il 10% addirittura si trovava al di sotto del 17,5%, che indica invece una condizione di sottopeso già preoccupante. Secondo la presidente dell'Ordine degli Psicologi della Regione Siciliana, Gaetana D'Agostino, la ricerca condotta introduce alcuni interessanti novità su un fenomeno che coinvolge sempre più frequentemente anche preadolescenti e bambini, rappresentando un'enorme sfida per la salute pubblica. Stando agli ultimi dati ministeriali, infatti, in Sicilia le persone affette da disturbi dell'alimentazione sono aumentate del 30% rispetto al 2018. Bisogna intervenire tempestivamente per contribuire a fermare questa epidemia nascosta. Notizia da Catania, l'arcivescovo Monsignor Luigi Renna ha incontrato i giornalisti per gli auguri in vista della Pasqua e poi ha lanciato anche un messaggio diretto alla città e alla diocesi. Sentiamo Lucio Di Mauro. L'arcivescovo di Catania, Sua Eccellenza Luigi Renna, ha voluto incontrare i giornalisti per fare il suo augurio di Buona Pasqua, aprendo il suo discorso con questa frase, reimparare a vivere la lezione della Pasqua, ma ha affrontato anche diversi argomenti, anche quelli politici e anche quello dedicato ai giovani. Sentiamo alcuni passaggi. Non c'è pace senza giustizia, non c'è pace senza sviluppo. Cioè la pace non è semplicemente l'assenza di guerra. La pace viene preparata da relazioni che sono solide. Noi oggi, se siamo in questa situazione che sembra dover quasi spingersi oltre una terza guerra mondiale perché atteggiamenti di giustizia, atteggiamenti di difesa comune, atteggiamenti anche di solidarietà sono venuti meno per degli equilibri geopolitici che forse oggi si stanno svelando e dei quali bisogna parlarne. Non con banalità, senza urlare, ma facendo delle analisi che tanti studiosi possono aiutarci a fare è che certamente aumenteranno la nostra cultura politica. Quella che incide con il voto e con la partecipazione in Italia e in Europa è quella che poi in qualche modo ha una sua ricaduta nel mondo perché già dall'urna elettorale inizia il nostro modo di vedere la pace. L'Arcivesco poi ha sottolineato dal mistero della Pasqua impariamo a vivere, anzi reimpariamo a vivere perché l'umanità è sull'orlo di un conflitto di vasta portata. Se le notizie di violenza e attentati scandiscono con ritmi quasi puntuali i nostri notiziari nazionali e il numero dei poveri cresce costantemente è perché dobbiamo reimparare dalla croce e dalla risurrezione. Se l'indifferenza è il virus che non teme mascherine e contagia intere generazioni, occorre ritornare a quell'antidoto che è stato fabbricato sulla croce. Forse l'amore per la qualità della vita, che forse pochi si possono permettere in pienezza, ma la vita nella sua quotidianità, la vita nostra, la vita degli altri, la vita di quelli che stanno soffrendo per la guerra, che stanno soffrendo per la loro povertà, la vita del nostro prossimo. Reimparare a vivere dalla risurrezione significa percorrere la strada che va dal Cenacolo, al Gezzemani, alla croce e poi al giardino della risurrezione perché c'è da imparare dal Cristo una grande lezione di vita. Ci spostiamo a Taormina. È nata la prima associazione di imprenditori della frazione di Trappitello. Sentiamo Mauro Romano. Il presidente dell'associazione imprenditori Trappitello, Taormina, Antonio Baratta. Un'attività che è iniziata in questi giorni di un nuovo sodalizio. Cosa state realizzando oggi? Sì, intanto buongiorno a tutti. Abbiamo il piacere di accogliervi qua a Trappitello, davanti alla scuola dell'infanzia, dove oggi abbiamo omaggiato i bambini di un piccolo dono pasquale. La nostra situazione è nata da pochissimo tempo, da poco più di 20 giorni. Ce l'avamo costituiti già circa tre mesi fa come gruppo per un'esigenza particolare. Abbiamo capito che dovevamo strutturarci per dare il nostro contributo sia per difendere i nostri diritti, sia per dare il nostro contributo da imprenditori in modo fattivo e propositivo alla comunità, per la crescita della nostra comunità. Ci sono altre iniziative in programma che avete intenzione? Quali sono i progetti più immediati che state pensando? Sì, abbiamo messo giù una serie di iniziative, ma ci vuole un po' di tempo, chiaramente ci stiamo strutturando. Stiamo già attivando con la misericordia un corso sul primo soccorso e sulla defibrillazione in caso di necessità, speriamo mai. Inoltre abbiamo altre iniziative, sia a livello culturale, sia a livello di eventi da organizzare sul territorio. La nostra intenzione è di partecipare insieme all'amministrazione a contribuire alla crescita economica e sociale del nostro territorio. Qua c'è il direttivo accanto a me, Giuseppe, Francesco Laspada, il vicepresidente Francesco Grillo, Giuseppe Di Piazza, Stefano Santa Lucia e Marilena Cingari. Sono persone splendide che stiamo facendo un grandissimo lavoro insieme per cercare di dare il nostro contributo. Presidente, al momento quanto sono gli iscritti? Al momento siamo 48, però abbiamo già parecchie richieste di adesione. Noi stiamo cercando di coinvolgere tutti gli imprenditori, non solo gli imprenditori ma anche i professionisti, in modo da accrescere le nostre competenze e le nostre capacità per migliorare il nostro contributo. Per il momento è tutto, possiamo chiudere questo appuntamento con Spazio Notizia. A più tardi. A più tardi.